Che suole causare Sant'Alfonso Rodriguez, 1532-1617, gesuita spagnolo, in Esercizio di Perfezione, dice Non prendere nessuna cosa come è venuta a caso o per artificio o prodotta da altri uomini, poiché è proprio questo che suole causare grande angoscia e dolore. Non pensare che questa o quell'altra cosa ti sia avvenuta perché quell'altro l'abbia fatta o manovrata, e se non fosse stato per la tale o tal'altra cosa sarebbe avvenuto altrimenti. Non devi far conto di questo, ma prendere tutte le cose come venute dalla mano di Dio, per qualsivoglia via o giro esse vengano, perché è Lui che le manda per quei mezzi. Commento Non si nota nessuna differenza tra quello che dice Sant'Alfonso Rodriguez e quello che dicono i maestri materiali attraverso grandi medium. I maestri infatti dicono La struttura matematica della realtà è divina perché è perfetta ed è perfetta perché è divina.